Viene avviata oggi a Rovigo l'attività di interconfronto sulle misure di PM10. L'inquinante PM10 è tra i più rilevanti per l'applicazione delle misure di blocco del traffico. Per questo ARPAV pone molta attenzione nel periodico controllo di qualità della propria catena strumentale. Per 40 giorni da oggi l'osservatorio aria di ARPAV, struttura tecnica specializzata nell'inquinamento atmosferico, rileverà l'inquinante PM10 a fianco della stazione fissa di Rovigo per verificare che strumentazione e personale tecnico della sede locale diano garanzia di affidabilità e accuratezza. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per fare un tipo di controllo qualità sulle polveri sottili, in particolare il PM10, per consentire un migliore allineamento delle nostre misure con quelle a livello delle altre agenzie e a livello nazionale e internazionale soprattutto. Queste attività sono molto importanti perché ci consentono di avere una misura allineata e confrontabile con tutte le altre agenzie regionali e provinciali e confrontabile anche a livello nazionale e internazionale.